Devo dire che è stata un'iniziativa molto bella promossa dal Presidente Falbo proprio in occasione della prima premiazione alle imprese dopo l'accorpamento. Quindi c'erano le imprese di tutti e tre i territori che si sono accorpate. È stata molto sentita, io quello che posso dire, da esterno che ho percepito anche in molti momenti l'emozione dei partecipanti, di coloro che sono stati premiati, siano essi dipendenti, siano essi imprese, eccellenza del territorio. Quindi queste sono quelle iniziative che in qualche maniera danno il senso di appartenenza, viene fuori. Quindi in qualche maniera credo che siano assolutamente utili anche per fare un po' di spirito di corpo tra il sistema delle imprese e il territorio. Ci si sente orgogliosi, questa è una cosa molto importante. Noi abbiamo un'analisi mensile dei dati sul mercato del lavoro e registriamo che questo problema cresce ogni mese sempre di più. Oggi abbiamo il 50% delle competenze ricercate dalle imprese che non si trovano nel mercato del lavoro. Tenga presente che significa che se un'impresa cerca 10 profili ne trova 5 soltanto, con soprattutto due difficoltà. Uno è che non ci sono candidati, l'altro è che i candidati non hanno una preparazione adeguata. Questo cosa significa? Significa che c'è un disallineamento tra la formazione e quello che le imprese cercano. Indiscutibilmente dopo la pandemia abbiamo avuto un'accelerazione della digitalizzazione, quindi le tecnologie avanzano sempre di più. Pensiamo all'intelligenza artificiale e probabilmente non c'è un adeguamento contemporaneo dei percorsi formativi per avere le competenze che occorrono. È un evento straordinario grazie anche alla partecipazione del Presidente nazionale di Union Camere Andrea Prete che ringrazio. La ventesima edizione del premio fedeltà al lavoro, la prima è stata nel 1952 perché è un premio biennale. È grande l'emozione delle imprese, delle aziende, degli esercenti, degli imprenditori ma anche dei dipendenti, sia dei dipendenti delle aziende stesse ma anche dei dipendenti camerali. Alcuni hanno potuto ritrovare i loro presidenti, i loro segretari generali. Le emozioni sono state veramente di grande partecipazione e la cosa mi ha veramente colpito perché è segno di una realtà economica, sociale di grande rilevanza di cui tutti noi dobbiamo essere orgogliosi.